La tecnologia digitale ha degli effetti collaterali sulla nostra mente che non sono tutti positivi. C'è un pericolo di diventare dementi, perché il cervello è un muscolo. Se lo alleni funziona, se non lo alleni si atrofizza. E la tecnologia digitale fa tutto il tuo posto, tutto il posto del tuo cervello. Il futuro della mente dipende da quanto riesci ad essere, gli inglesi direbbero read-off della tecnologia, quanto riesci a liberarti dalla tecnologia. E non vuol dire tornare indietro di vent'anni, dire vivere contemporaneamente, nel mondo contemporaneo, senza per questo essere schiavi di qualche cosa, quindi essere liberi. La mente si ciba di libertà.